Benvenuti allora, seconda parte del ciclo di non so quante conferenze, probabilmente il numero lo sapremo alla fine, comunque almeno tre, interessantissime dell'amico Roberto che ci intrattiene dal centro alla periferia, ovvero dai miti cosmogonici alla cosmologia moderna e fino alle teorie cosmologiche contemporanee, ci eravamo lasciati con l'inizio della teoria copernicana, questa sera penso che arriveremo alle soglie del Novecento, quindi tutto quello che è la conoscenza dell'universo nell'ambito della cosiddetta fisica classica e prepareremo l'antipatto poi per la polmologia come la intendiamo noi, quindi quella basata sulla teoria della relatività. E' la più sensata della parola, il mio omonimo. Grazie, aspettiamo un attimo. Buonasera. Bene, siamo giunti alla seconda puntata di N, vi faccio un po' di riassunto della volta precedente, perché non c'era, perché comunque dicevano che è ripetita Juvent, e quindi vediamo un po'. Da c'è dalla periferia, dai miti alla scienza, ovvero da com'era la concezione dell'universo dei tempi di Aristotele, geocentrica, antropocentrica, un universo molto limitato, ai giorni nostri dove siamo un puntino disperso all'interno di uno, o forse uno dei tanti universi possibili. E' il caso che quell'immagine dell'universo sembra in un modo elettronico del gruppo quando funziona male? Eh, probabilmente, è la seconda che hai detto. Allora, l'avevamo iniziato definendo il termine universo, ecco, vabbè, uno è universo, tutto ciò che è trasformato e volto in uno, riferimento a un concetto sviluppato dai greci che vedevano appunto, come detto prima, questo insieme di pianeti, di sfere che ruotavano intorno alla Terra, Sole incluso. Avevo fatto un'introduzione dicendo che l'unica cosa nella quale siamo al centro sono le nostre dimensioni metriche. Siamo nell'ordine di 10 alla 0 e ci troviamo dalla parte microscopica fino al 10 alla meno 35, quindi 35 grandezze, e dalla parte invece macroscopica, le scale cosmiche, fino alla 10 alla 33, che sono i limiti più o meno dell'universo conosciuto al giorno d'oggi. Quindi noi siamo al centro, ed è l'unico centro nel quale al momento siamo. Il problema che l'uomo ha sempre avuto, il problema al quale non daremo una risposta, logicamente, perché non c'è una risposta, però ci interroghiamo su che cos'è l'universo, da dove viene e dove va, e cosa intendiamo per universo. Vediamo cosa i nostri progenitori intendivano per un universo, vediamo cosa intendiamo noi, vedremo cosa intendiamo noi oggi per universo. Che cos'è, da dove viene e dove va. Avevamo parlato la volta precedente, che è la posizione che occupiamo sulla sfera terrestre, influisce moltissimo su ciò che vediamo nel cielo. E quindi, in base alla latitudine, le varie culture antiche hanno sviluppato delle concezioni dell'universo che sono un po' variate. Ad esempio, chi stava all'equatore, aveva questo cielo molto uniforme, con gli astri che salivano e scendevano quotidianamente, con degli archi ben definiti e avevano un centro, probabilmente, di posizionamento al centro dell'universo. L'universo era molto stabile, molto ben definito. Andando verso il nord, le cose cambiano. Ad esempio, qua siamo a livello di 51 gradi, quindi a livello di Stonehenge, più o meno, il cielo, che è sempre lo stesso, però sembra muoversi in maniera diversa. E ancora di più, andando verso il polo nord, proprio essendo sul polo, il cielo si comporta in maniera ancora diversa, in quanto ci ruota tutto quanto intorno, le stelle non tramontano mai, e in più, vabbè, hanno anche le aurore boreali, per cui questa visione porta di volta in volta a sviluppare dei miti, perché non c'era ancora la scienza e quindi si andava per supposizioni, si credeva di vedere e si pensava. Gli egiziani, il popolo, una delle prime civiltà, hanno sviluppato delle cosmogonie, su base teologica, nulla di scientifico, una serie di divinità che nascevano dal nulla, che si riproducevano e che hanno dato origine all'umanità. Nessun tipo di riferimento reale a quello che c'era al mondo, a parte la conoscenza, direi, metrica dell'universo stesso, il saper calcolare le posizioni degli astri quando sarebbero arrivate, ma senza riferimenti a geometrie particolari, senza riferimenti a concetti di fisica. Si sapeva che ogni tot la Luna faceva il suo ciclo, che le costellazioni si spostavano in un certo modo nel cielo e serviva tutto questo per verificare, ad esempio, per gli egiziani in maniera particolare le inondazioni del Nile. Con queste cose qua, loro sapevano che in base alla posizione delle stelle sarebbe arrivata probabilmente la piena, una delle cose possibili, oppure ne traevano dei vaticini e quindi si parlava di astrologia, ma non quindi di astronomia. Andando avanti, dopo egiziani abbiamo i greci, i greci cominciano a studiare la cosa in maniera leggermente più scientifica, però sempre mediata da concetti filosofici, per cui sì, una parte di osservazioni reali alle quali si sommano credenze del tempo e quindi si pensa che in base a criteri di simmetria, di perfezione, l'universo deve essere fatto in questo modo, perché ad esempio per loro il cerchio e la sfera erano perfetti, l'universo è perfetto e l'universo deve essere per forza sferico. Essendo sferico, dentro la sfera le cose si muovono con moto circolare, uniforme, perché è il moto più preciso e più giusto che ci sia, su cui tutto ruota intorno e al centro immobile, su se stessa c'è la Terra intorno al quale tutto ruota. D'altronde, se lo guardiamo fuori, a noi sembra effettivamente che tutto ruota intorno a noi. Non c'era la cognizione del fatto che la Terra poteva girare intorno al Sole. O per meglio dire, vedremo ciò che c'era ma non aveva preso piede. Era stata considerata un'idea un po' balzana. Questo concetto di Aristotele viene portato avanti da Ptolomeo, che cerca di perfezionare questi funzionamenti, queste orbite, crea una serie di problemi e che però questo concetto viene portato avanti, viene portato avanti fino a molto avanti, dura più di mille anni questa concezione, Terra, Luna, Mercurio, Venere, sfere concentriche in cui si muovono questi pianeti. Suonando veloce ma è solo un riassunto questo. Ptolomeo aveva portato avanti il concetto dell'epiciclo che spiegava una serie di moti celesti. Il pianeta ruota intorno a un centro e questo centro a sua volta è posizionato su una circonferenza con la Terra al centro suo. Per cui il punto C si muove sull'orbita, il punto P ruota intorno a C, si sposta e si completano i moti celesti. Funziona? Sì, funziona fino a che non andiamo a osservare in maniera più definita, in maniera migliore. Mano a mano che andiamo a osservare, che siamo più precisi nelle nostre osservazioni, ci sono delle anomalie, ci sono dei moti retrogradi che sono difficili da spiegare e allora si complicano le questioni, si vanno ad aggiungere altri epicicli, si aggiungono a catena queste funzioni. Viene aggiunta ad esempio il concetto di equante. Il concetto di equante è praticamente un punto di rotazione, è l'epiciclo che ruota sul deferente ma non più con il centro della Terra ma con il centro di equante. Quello che si ottiene alla fine è una pseudo-orbita ellittica. Non è comunque corretto neanche questo e tutta questa serie di complicazioni in questo sistema convergente che continua ad andare sempre più vicino alla realtà senza mai arrivare. Per fare un esempio semplice, supponiamo in una cittadina dove tutti gli abitanti hanno una macchina nera e dicono tutte le macchine sono nere. Un certo giorno, lunedì mattina, arriva uno con una macchina rossa. Allora cosa si dice? Non è che si dice le macchine sono nere ma ci sono anche rosse, gialle, verdi e no, le macchine sono tutte nere forché lunedì mattina dalle 11 alle 12 che c'è la macchina rossa. E questo va bene fino a quando un'altra volta un mercoledì arriva uno con una macchina bianca dalle 14 alle 15. Allora si aggiunge un'altra eccezione alla regola. Capite che è un sistema di lavorare che porta a una quantità infinita di aggiunte, di aggiunte, di aggiunte. tanto è vero è che qua si parlava appunto del moto di Marte che è quello che aveva un po' messo in crisi il sistema tolemaico. E qua si spiega come funziona questo moto retrogrado che è un moto apparente perché la Terra in questo momento qua gira nella sua orbita più velocemente di Marte. L'anno di orbita di Marte è circa il doppio del nostro. Per cui a un certo punto la Terra vede Marte proiettato e lo vede in questo senso qua. Quando siamo in linea lo vediamo di fronte a noi, quando la Terra sorpassa Marte lo vede posteriormente e quindi sembra che Marte abbia invertito la sua rotazione per poi riprenderla. In realtà ciò non avviene ma è un'illusione di ottica. C'è questo commento apocrifo di Alfonso X di Castiglia che disse se il signor Onipotente mi avesse consultato prima di imbarcarsi nella creazione di questo mondo gli avrei consigliato qualcosa di più semplice. E su questa diapositiva ci eravamo affermati la volta precedente. Per cui era particolarmente complesso. Era complesso da studiare, era complesso da capire, ma era complesso perché era macchinoso, non perché era poi realmente difficile. Dicevamo che appunto già ai tempi che furono, ai tempi degli antichi greci, Aristarco di Samo aveva proposto un sistema egliocentrico. Citiamo qui un archimede che nell'arenario scrive, ma Aristarco di Samo scrisse un libro in cui avanzava una teoria le cui premesse portavano alla conclusione che l'universo è molte volte più grande di quello che oggi chiamiamo tale. A quei tempi là si pensava che il Sole fosse grande leggermente più dell'Ellade, quindi l'universo non era poi molto ma molto più grande. Egli formula l'ipotesi che le stelle e il Sole siano immobili, che la Terra giri intorno al Sole descrivendo un'orbita circolare e che il Sole si trovi al centro dell'orbita. Aveva detto giusto, non è stato ascoltato. Ecco appunto abbiamo detto che invece è andato avanti il sistema aristotelico, poi tolemaico, che veniva considerato, veniva modificato ogni volta come vi ho accennato, aumentava la sua complicazione, era un sistema di tipo convergente e che sopravvisse però fino al XV secolo, anche perché comunque gli scolastici e la Chiesa lo acquisirono come una rappresentazione divina e lo resero praticamente intoccabile. Quando poi cominciò a crollare il sistema tolemaico, il termine epiciclo divenne persino dispregiativo, divenne per dire che qualunque cosa era macchinosa, era malformulata, era inattendibile, diventava una teoria, diventava un epiciclo di per sé stesso. A causa delle quante proprio, questo signore Copernico, che era anche un medico, era un filosofo, era un pensatore, cominciò a studiare un po' i moti celesti per cercare di dare un po' una sfrondata a tutto questo sistema complesso. E osservando, con occhio un pochettino più critico, si rese conto che era la terra che girava intorno al sole e non viceversa. Ma anche se oggi lo consideriamo un po' un rivoluzionario, in realtà non era affatto un rivoluzionario, anzi, lui era restio a comunicare le sue scoperte. Tanto è vero che il De Rivoluzioni Bus Orbium Celestrum, circa la rivoluzione delle sfere celeste, fu pubblicato l'anno della morte stessa dello scienziato. venne stampato in pochissime copie e ne vennero lette ancora meno. Però, nonostante tutto, diventò un testo di riferimento e iniziò questo movimento di rinnovazione. Poi addirittura, qualche anno dopo, con il migliorare della stampa, vennero inseriti anche i disegni fatti dallo stesso Copernico, che sono questi qua, l'informazione cominciò a dilagare nell'ambiente colto. Teniamo conto che guardando questa impostazione qua, pur avendo al sole al centro e pianeti che ruotano intorno, c'è sempre comunque un qualcosa che è ancora collegato alle vecchie concezioni. Ci sono le orbite circolari, che tali in realtà non sono. E poi abbiamo l'ultima parte, la sfera più esterna, che è il livello delle stelle immobili, oltre al quale, poi non si sa esattamente cosa ci... non si sapeva cosa ci poteva essere. Copernico riassume in sette punti il suo concetto e dice Non vi è un unico punto centro delle orbite celesti e delle sfere celesti. Quindi non è un punto solo intorno al quale è ruota tutto, ma ci sono più punti, ognuno ha il suo punto di riferimento. La Terra ha la sua orbita, Marte ha la sua e tutti quanti hanno la loro orbita. Il centro della Terra non è il centro dell'universo, come si pensava prima, ma è solo il centro della massa terrestre e della sfera lunare. Quindi la Terra ha il suo centro, come giustamente è, e intorno alla Terra ruota la Luna. Tutte le sfere comunque ruotano attorno al sole, che quindi è in mezzo a tutte. Esso è il centro dell'universo e si trova vicino al sole. Quindi vede, delocalizza il centro dell'universo non più alla Terra, ma lo delocalizza nel Sole. È già un avanzamento molto importante questo. Poi dice, il rapporto della distanza tra il Sole e la Terra con l'altezza del firmamento è tanto più piccolo di quello tra il raggio della Terra e la distanza di questa dal Sole, che nei confronti dell'altezza del firmamento tale distanza è impercettibile. Cosa fa? Fa il rapporto Terra-Sole rispetto alle posizioni delle stelle fisse. E poi fa il rapporto tra il diametro terrestre e la distanza col Sole. e si vede che queste distanze effettivamente variano, con un rapporto per cui una delle due si annulla. E quindi cosa vuol dire? In pratica che le stelle lontane, le stelle fisse, apparentemente non hanno nessun tipo di movimento. Cosa che invece, essendo più vicino al Sole, possiamo vedere un movimento più evidente. Un pianeta, un Sole, una stella più vicina, è più facilmente visibile il cambiamento di posizione. Le stelle fisse sono molto lontane e non vengono percepite in movimento. Qualsiasi movimento appaia nel firmamento non appartiene a esso, ma alla Terra. Pertanto la Terra, con gli elementi contigui, compie in un giorno un intero giro attorno ai suoi poli fissi, mentre il firmamento resta immobile, inalterato con l'ultimo cielo. In sintesi, vuol dire la Terra gira su se stessa e non è l'universo che gira intorno alla Terra. È tutto qua. Qualunque movimento ci appaia del Sole non appartiene a esso, ma dipende dalla Terra e dalla nostra sfera. Ripete praticamente quello di prima, ma lo ripete questa volta non più in rapporto con le stelle fisse, ma lo ripete con il Sole, che è molto più vicino. Insieme alla quale noi ruotiamo attorno al Sole, come qualsiasi altro pianeta, e così la Terra compie più movimenti. La Terra ha la sua rotazione intorno al suo asse e ha la rotazione intorno al Sole. Per i pianeti appare un moto retrogrado e un moto diretto. Il moto retrogrado e diretto che abbiamo visto prima Marte, che sembra tornare indietro, e poi che va avanti. Cioè in realtà non dipende da loro, ma dalla Terra. Pertanto il moto di questa sola basta a spiegare tante irregolarità celesti. Ha semplificato molto le cose, ha tolto una bella dose di epicicli, però poi per non andare contro le credenze, perché teniamo conto di una cosa, c'era il problema che a negare il sistema geocentrico si rischiava di andare a dar fastidio a qualche autorità importante. E a quei tempi non è che erano molto ben disposti a perdere di autorità. Per cui cosa dice a un certo punto? Dice, vabbè, viene un compromesso con se stesso, mantiene un po' di epicicli, dice, sì, guardate, la Terra ruota intorno al Sole, però mantiene le orbite circolari, mantiene gli epicicli, ne toglie praticamente uno solo, e comunque riesce a dare un'impostazione nuova al concetto dell'universo. Il risultato finale è che in questo periodo, come riporta qua Giovanni Riccioli, ci sono, convivono una serie di concezioni dell'universo, dal sistema tolemaico al sistema platonico, che sono molto simili, il sistema egiptico, in cui la Terra è al centro, il Sole ruota, però intorno al Sole ruota Mercurio, un sistema copernicano, che è questo che abbiamo visto adesso, un sistema ticoniano, ideato da Tycho Brahe, il sistema semi-ticoniano, che sono sistemi un po' ibridi. Sistemi che adesso vedremo verranno considerati da un altro grande scienziato, da un altro grande pensatore, qualche anno dopo, però che sarà poi Galileo Galilei, ma lo vediamo subito dopo Keplero. Nel periodo, in questo periodo di fermento così, c'è un altro grande pensatore, un altro grande scienziato, che è Keplero. Keplero era, anche lui, era anche un agrimensore, era quindi abituato a fare conteggi di tipo geometrico, e si mette a osservare, anche lui, la volta celeste, si mette a osservare il moto dei pianeti, ne dà una serie di interpretazioni, anche di tipo matematico, e viene a formulare le tre leggi di Keplero, che dice, la prima, l'orbita descritta da ogni pianeta, nel proprio moto di rivoluzioni, è un'ellisse di cui il Sole occupa uno dei due fuochi. Quindi, partiamo, e abbiamo effettivamente l'idea dell'orbita ellittica, quella che è tuttora conosciuta, e che rispetta la realtà. Poi la seconda legge dice, durante il movimento del pianeta, il raggio che unisce il centro del pianeta al centro del Sole descrive aree uguali in tempi uguali. Lo rivediamo tra poco. E poi dice che il quadrato del tempo necessario a percorrere l'intera orbita attorno al Sole è proporzionale al cubo della distanza del pianeta dal Sole. Allora, l'orbita ellittica, l'abbiamo visto, dall'orbita originale, che era quella circolare, all'orbita ellittica, con il Sole che occupa non più il centro, ma occupa un fuoco dell'ellisse. E su questo credo che non ci siano problemi. Questa, invece, è la seconda legge di Kepliero. Allora, il raggio vettore collega il centro del pianeta al centro del Sole, al fuoco dell'ellisse. Il pianeta, nella sua orbita, deve percorrere spazi uguali in tempi uguali. Quindi quest'area, uguale a questa, deve essere percorsa nello stesso tempo. Allora, vediamo che A e B è un percorso molto più breve rispetto a C e D. Qual è l'unico modo che ci viene in mente per dire percorrere questa distanza nello stesso tempo di questo? Vuol dire qua andare più piano e qua andare più veloci. Allora, il moto del pianeta non è, come dicevano gli antichi greci, circolare, uniforme. È un moto che accelera e poi decelera. In questo punto, che è l'affeglio, il moto è più lento, è il punto più lento dell'orbita, e in questo punto il moto è più veloce, e la velocità del pianeta è massima in questo punto qua. E qua si va a scalare, si rallenta e si riaccelera. Questo dice, in pratica, la seconda legge di Kepliero. La terza legge è quella che ci permette di calcolare il tempo dell'orbita di un pianeta, e che dice che alla fine, che i pianeti più interni orbitano intorno alla loro stella in maniera più veloce di quelli più esterni. Tant'è vero che la Terra impiega 365 giorni a girare intorno al Sole, Marte, che è più esterno, le impiega 620 all'incirca. In questo modo qui, Kepliero dà una serie di informazioni in più. E pubblica un libro, il Misterium Cosmograficum. Nel Misterio Cosmograficum, però, non è che va a fare la difesa del sistema copernicano, ne dà sempre un'interpretazione ancora non scientifica. Dice che interpreta questi movimenti come il volere di Dio, come si mette un po' nella cerca di mettersi nella testa di Dio, e dice, ma sì, l'ha fatto così perché c'erano dei rapporti anche qua interessanti. Diciamo che tutte queste orbite, tutti questi pianeti possono essere iscritti uno dentro l'altro seguendo le dimensioni della sfera esterna, poi del cubo, dell'icosaedro, quindi dei solidi platoniani, che non ha molto senso, però a quei tempi la funzionava così, e dice, poi perché ci sono questi numeri, queste dimensioni, questi mote, fa una corrispondenza tra tre corpi immobili, che sono il Sole, le stelle fisse, lo spazio intermedio, e decide che sono l'equivalente del padre, del figlio e dello Spirito Santo. Quindi vedete che non c'è una... è già un pensiero scientifico, ma è ancora molto molto vincolato alle vecchie abitudini. Da qui... Ecco, qua vi ho preparato un esempio dei solidi platonici, che sono il tetraedro, il cubo, o esaedro, l'otaedro, l'icosaedro e il dodecaedro. Come vedete, sono solidi che hanno delle simmetrie notevoli, sono molto regolari, a quei tempi, quando erano ai tempi di Platone, quando erano stati scoperti, erano stati trovati molto belli, molto interessanti, molto simmetrici, ripeto, i greci piacevano e l'hanno considerato un po' la base per tutto poi la costruzione del mondo. Su questi concetti di bellezza, di simmetria, di piacevolezza, comunque, non sono completamente sbagliati, perché tuttora, ad oggi, i nostri fisici, gli astronomi, gli fisici, gli astrofisici, lavorano ancora su concetti proprio di simmetrie, di bellezza, di scelta tra una teoria e un'altra, vanno a scegliere quella che esteticamente, a livello matematico, è più piacevole di un'altra, è più lineare, e più delle volte si dimostra anche che sia quella corretta, tra l'altro. Quindi, i greci, poi, qualcosa di, del giusto c'era in quello che hanno detto, anche se lo consideravano in un altro modo. Comunque, arriviamo, adesso, siamo oltre al, metà del 1500, metà del 1600, con Galileo Galilei. Galileo Galilei è il padre del metodo scientifico, è quello che finalmente comincia ad abbandonare i preconcetti filosofici a favore di una dimostrazione matematica, di una dimostrazione rigorosa, e crea lo sviluppo per la nuova scienza, per quella che poi è la scienza che usiamo tutt'oggi. Galileo esclude nelle sue teorie il sistema tolemaico ed esclude quello ticoniano che avrebbe potuto però prendere in considerazione e anche quello viene escluso il sistema ticoniano a favore di quello copernicano e quello copernicano, scusate, è più bello, è più esteticamente migliore, è uno dei criteri della scelta di Galileo per il sistema ticoniano, oltre logicamente alle osservazioni e ai calcoli che fece. Teniamo conto che Galileo nella sua scienza non disdegna comunque di fare anche l'astrologo, Galileo guadagna molto facendo anche le predizioni di tipo astrologico, per cui a quei tempi astrologia e astronomia si davano ancora alla mano parecchie, erano molto strette e molto vincolate. Galileo dicevo comincia a studiare le cose e dice hanno sin qui la maggior parte dei filosofi ad esempio creduto che la superficie della luna luna che lui osservò con il suo telescopio fosse pulita, tersa e assolutissimamente sferica e se qualcuno disse di credere che ella fosse aspra e montuosa fu reputato parlare più presto favulosamente che filosoficamente ora io questo stesso corpo lunare asserisco il primo non più per immaginazione ma per sensata esperienza e necessaria dimostrazione che egli è di superficie piena di innumerevoli cavità ed eminenze tanto rilevate che di gran lunga superano le terrene montuosità lo scrive a gallanzone gallanzoni quindi Galileo osserva capisce deduce a differenza di chi magari guardava non osservava guardava ma poi dissertava a modo suo quindi per Galileo dovremo avere per avere un metodo valido dovremo avere la sensata esperienza e la necessaria dimostrazione mi direte cos'è la sensata esperienza e cos'è la necessaria dimostrazione la sensata esperienza è come si viene a condurre l'esperimento bisogna fare delle ipotesi con un metodo ipotetico sperimentale e con queste ipotesi noi andiamo a sviluppare la nostra esperienza io se osservo la famosa pietra che cade e la piuma che cade cosa posso dire a osservazione basta dico beh la pietra cade più veloce della piuma quindi vuol dire che le pietre cadono in maniera diversa cadono velocemente però ha un corpo di natura diverso e la piuma invece più leggera no non è vero la piuma cade alla stessa velocità della pietra in assenza d'aria perché in assenza d'attrito cadono sono attratte dalla stessa forza di gravità che agisce ugualmente su entrambi i corpi la piuma o il foglio di carta cade più lentamente perché l'adia fa trito e la frena ci buttiamo dall'aereo con paracaduta e non ci facciamo niente se ci buttiamo senza paracaduta ci sfraccegliamo al suolo stesso motivo infatti dice Galileo non ottenne la legge di caduta dei gravi dalla mera osservazione altrimenti avrebbe dedotto che il sasso nell'aria arriva prima a terra rispetto alla piuma per via studiò invece il moto dei corpi in caduta controllandolo con un piano inclinato costruì un marchi ingegno con un piano inclinato con dei punti di riferimento in base ai quali riuscì a calcolare momento per momento la posizione del corpo e da quello lì ne ottenne una serie di dati che gli permisero di avere una sensata esperienza Galileo Galilei tanto per dirvi una cosa fu probabilmente il primo a calcolare a tentare di calcolare in questo modo la velocità della luce mise due osservatori due suoi discepoli su due colline circa un milione dall'altra lui si mise a metà fornì questi signori di una lanterna con uno sportellino poi disse quando tu apri lo sportello quando l'alto dall'altra parte vede la luce apre su e tu chiudi il tuo e io controllo i tempi impiegati tenendo conto del tempo dei riflessi purtroppo la distanza era molto breve gli strumenti impiegati erano quelli che erano ottenne per la luce una velocità dieci volte quella del suono quindi tre mila tre cento metri al secondo tre chilometri al secondo ecco all'incirca un po' un po' bassa rispetto a quella reale però comincio a fare questo tipo di esperimenti è andato avanti no la necessaria dimostrazione dopo aver acquisito tutti i nostri dati dopo aver fatto le nostre ipotesi a fare un altro esperimento dobbiamo avere un'analisi matematica rigorosa dei risultati dell'esperienza che da questi risultati universali deve trarre una legge scientifica cosa deve trarre un modello predittivo in pratica deve dire che questa cosa avviene così e avviene sempre così perché in queste condizioni io posso predirti matematicamente posso dirti che la cosa è questa lascio cadere un corpo il corpo accelererà con la forza di gravità di 9,8 metri al secondo quadrato per ogni secondo e quindi dopo tot metri la velocità del corpo che prima era zero sarà quella che sarà di volta in volta in base ai metri di caduta questa è una legge e la legge questa dimostrazione va comunque cimentata ovvero l'esperimento va fatto va ripetuto va ripetuto molte volte va ripetuto in condizioni diverse a vedere se regge quello che abbiamo detto quando io costruisco una teoria che sia ai tempi di Galileo che sia ai giorni d'oggi la teoria deve avere una base solida a tutto quello che vogliamo però la devo considerare un po' come una barchetta di carta una volta che l'ho fatta non la metto sotto una campana di vetro perché mi è venuta bene è bella mi piace no la prendo la metto in una bacinella d'acqua e guardo se galleggia se galleggia comincio a muovere l'acqua e vedo se la barchetta tiene e la stessa cosa devo fare con gli adeguati strumenti per una teoria la faccio la provo e cerco di distruggerla se regge vuol dire che probabilmente è valida se crolla qualcosa non funziona ho saltato un passaggio o ho dimenticato qualcosa ma qualcosa vuol dire che non va passato Galileo l'anno dopo la morte di Galileo nasce quest'altro personaggio importantissimo che è Isaac Newton Isaac Newton è un grande genio anche se in un'inchiesta recente è stato considerato poco specialmente nei paesi anglosassoni dopo le scoperte di Einstein la gente ha cominciato a dire ma Newton ha detto l'FSRI è tutto sbagliato no non è vero non è sbagliato con Newton è andata avanti la teoria di Newton per due secoli la usiamo tuttora in ingegneria per gli scopi qua nostri terreni funzionano benissimo le teorie di Newton e quindi non ha sbagliato ha solo visto le cose con l'occhio del suo tempo con i mezzi che aveva a disposizione e ha fatto delle cose veramente grandi adesso vediamo un attimo trova la legge della gravitazione universale e i tre principi della meccanica newtoniana elimina tutta quella serie di divisioni che poi abbiamo detto pittoresche che poi effettivamente sono pittoresche di queste concezioni che abbiamo visto parte scientifiche parte inventate parte filosofiche parte teologiche e dice no la scienza è una precisa esatta la matematica è una scienza esatta anzi uno strumento esatto e allora dobbiamo cercare di dare in questo caso parliamo di moti una descrizione matematica rigorosa dei moti dobbiamo produrre delle equazioni che sono leggi dei cambiamenti e le soluzioni di queste equazioni che sono i loro risultati devono consentirci nel nostro caso di predire i moti dei corpi celesti quindi in base a una certa equazione io ti posso dire che tra sei mesi due giorni e quattro ore la luna sarà in questo certo posto marte sarà in quell'altro posto e ciò deve essere poi deve essere effettivamente validato man mano quel tempo passa devono ottenersi dei risultati dichiara questi tre principi generali della dinamica il primo principio il corpo non sottoposto ad alcuna forza rimane in stato di quiete o di moto rettilineo uniforme ora su un poche parole c'è una una potenza dentro a questa frase che è incalcolabile forse uno non ci fa caso subito però pensate un attimo per tutti questi migliaia di anni che il corpo senza alcuna forza rimane in stato di quiete era una cosa che era chiara per tutti se io poso la penna sul tavolo resta ferma lì va bene quindi se le do una spinta si muove e poi si ferma quindi vuol dire che i corpi quando la forza non c'è più si fermano e vanno in stato di quiete ma un corpo che si muove di moto rettilineo uniforme non è facile da pensare un corpo che si muove di moto rettilineo uniforme e che continua a muoversi di moto rettilineo uniforme lasciamo perdere il motore dell'auto adesso che potrebbe trarci in inganno ma pensiamo al 1700 1800 la carrozza con i cavalli si fermava il cavallo si fermava la carrozza non spingevo più il carretto si fermava il carretto faceva rotolare una pietra andava giù dalla discesa finita la discesa si fermava da qualche parte quindi il genio reale è quello di aver immaginato qualcosa oltre la realtà tangibile è quello che si chiama a giorno d'oggi gli anglosassi chiamano to think out of the box pensare fuori dagli schemi Newton realizza visualizza nella sua mente un concetto nuovo e lo rende reale perché il moto rettilineo uniforme non si ha cioè si ha ma nel attimo in cui cessa la forza le cose si fermano ma si fermano per una ragione molto semplice perché c'è un attrito l'attrito dell'aria l'attrito del piano d'appoggio l'attrito dei giunti delle ruote per cui tutto quanto a certo punto si ferma un corpo lanciato ad esempio nello spazio in assenza di gravità gli si imprima una forza e questo continua ad andare ad andare ad andare quindi il genio è proprio in questa capacità di immaginare qualcosa che nessuno aveva mai immaginato prima ma che in realtà c'è il secondo principio la quantità di moto di un corpo varia in misura proporzionale alla forza che si esercita su di esso cosa vuol dire che cos'è la quantità di moto la quantità di moto è la velocità che imprimiamo è l'accelerazione della velocità della massa quindi quanto quanto si muove una massa nel è la forza diciamo è la forza che serve per fermare un corpo in movimento ecco ho detto bene abbastanza è abbastanza chiaro f uguale ma per la massa per la velocità esatto è la massa per la velocità per cui se ho un è il motivo per cui se in macchina vado a due chilometri orari e picchio contro un muro ammacco appena appena la macchina se vado a cento all'ora mi sfracello e mi ammazzo perché c'è una quantità di moto talmente elevata che la forza contrastante è sufficiente a piegare tutte le lamiere e questa è la qua poi il terzo principio a ogni azione corrisponde a una reazione uguale e contraria è quello che ci permette ad esempio di viaggiare con gli aerei a reazione è il motivo per cui il cannone spara la palla fuori dalla bocca del cannone è come c'è quello simpatico esperimento dove mettono una palla molto pesante o un cannone molto leggero il cannone spara la palla la palla resta praticamente lì e il cannone se ne va indietro se non ha un vincolo quello tiene perché la forza viene bilanciata dall'azione uguale e contraria l'universo di newton è interessante e molto bello ha una particolarità però richiede degli osservatori particolari vede questi moti avvenire su un palcoscenico chiamiamolo così allo sfondo del palcoscenico è l'universo che resta praticamente invariato intoccato da questo da qualunque tipo di azione noi svolgiamo qui e ora non influisce minimamente su quello che c'è oltre prendiamo ad esempio però un caso di questo tipo qua prendiamo ai tempi di newton non si andava col razzo non si andava nello spazio però supponiamo di ragionare adesso che si va nello spazio con i principi di newton un razzo che va nello spazio e che ruota sul suo asse a un certo punto l'astronauta che c'è dentro guarda dall'oblò e vede le stelle muoversi intorno queste stelle che si muovono sembrano avere un'accelerazione ma non c'è nessuna forza che le ha mosse quindi il primo principio di newton non è più valido non è un moto rettilineo non è un moto rettilineo uniforme non c'è nessuna forza che ha agito eppure queste si sono mosse il secondo principio di newton si complica perché si aggiungono quelle ad esempio le forze di coriolis che sono forze che poi non sono forze reali sono delle risultanti che non hanno però non c'è un'applicazione hanno importanza dal punto di vista osservativo ma non sono forze vere non penso che sia il caso di andare ad approfondire più di tanto perché è abbastanza complessa la questione però è un'accelerazione delle deviazioni apparenti che non valgono quindi più sulle leggi di newton quindi perché tutto funzioni correttamente gli osservatori devono essere osservatori speciali osservatori privilegiati per i quali queste leggi della dinamica siano più semplici appaiano uniformi appaiano coerenti costanti ad altri tipi di osservatore però una legge naturale deve essere valida per tutti deve essere valida sia per un osservatore in un posto in un tempo che in un altro posto e quindi c'è qualcosa dentro alla concezione di newton che non è corretto possiamo dire non è completo non è corretto ha qualche problema e poi per un'altra cosa ai tempi di newton comunque si riteneva che qualunque interazione a livello di luce di gravità fosse pressoché istantanea quindi non c'era neanche il concetto del limite della velocità della luce si pensava che un corpo potesse accelerare all'infinito e l'universo è tridimensionale il tempo è a parte quindi sono due concetti completamente distinti vedremo poi andando avanti come abbiamo già come il nostro amico ha già detto nell'altra volta nella relatività che ci sono altre cose da considerare però prima di arrivare al novecento e alle teorie relativistiche vediamo da newton ai primi del novecento chi si è ancora cimentato in considerazioni sull'universo sulla galassia Thomas Wright ad esempio Thomas Wright era un orologiaio era un appassionato di astronomia era un architetto era un agremensore comincia a guardare la via Lattea ci sono dei metodi più ormai validi ci sono questi cannocchiali sono stati modificati sono stati migliorati e comincia a guardare questa la via Lattea la nostra galassia galassia che deriva dal greco galaxis che vuol dire latte o bianco e vede osservando questa queste stelle che queste stelle non sono spruzzate così casualmente ma hanno una certa disposizione logica sono conformazioni ben precise e quindi comincia a supporre dell'esistenza di strutture di agglomerati di qualcosa di un po' più solido rispetto a una serie di puntini messi nel cielo e comincia a fare delle supposizioni da un modello crea un modello un modello della via Lattea e lo vede un po' come una serie di stelle messe in cerchio su un disco come fossero un po' i dischi di Saturno e all'interno di questo cerchio c'è il centro della galassia stessa il centro della galassia stessa che lui considera il centro della creazione dal quale trae origine tutto qualunque tipo di legge di natura quindi il centro della galassia è l'origine di tutto e intorno a questo ci sono questi ammassi stellari a disco però diceva bene questa è una possibilità un'altra possibilità potrebbero anche essere una serie di queste galassie sferiche con le stelle poste sulla superficie e noi siamo uno di questi siamo su una di queste superfici qua e vediamo queste stelle intorno a noi questa galassia intorno a noi e sono queste quindi se noi fossimo qui vediamo tutte queste stelle intorno e oltre a questo poi ce ne sono altre più lontane infiniti ammassi infiniti ammassi come tante sfere e ognuna è una galassia quindi si passa da un concetto di galassia singola a un insieme di multipli di infinità quindi vedete come si sta già evolvendo il pensiero dell'uomo da una serie di sfere concentriche siamo passati a una serie di galassie Wright aveva letto un libro di John Milton Il paradiso perduto in cui Milton faceva riferimento appunto a questo universo infinito di sistemi solari simili al nostro allora in base a questo lui calcola dalle sue osservazioni e da questa lettura calcola 3.888.000 stelle nella Via Lattea probabilmente avrà preso un arco avrà fatto un conto approssimativo e l'ha moltiplicato e gli è venuta questa cifra qua dice se ci sono tante stelle così ci saranno all'incirca 60 milioni di sistemi planetari ma probabilmente saranno forse anche molti di più i numeri cominciano a crescere si ampia la conoscenza si ampia lo spazio nel quale noi viviamo e cos'è? è un'espansione in pratica dell'iocentrismo quindi dal Copernico al Sole che sta al centro le galassie che stanno al centro e si va avanti un universo con tante galassie queste galassie come tante isole danno origine agli universi isola il concetto di universo isola verrà accettato ufficialmente nel 21 durante questo dibattito allo Smithsonian Institution di Washington in cui Herbert Curtis si oppone a Harlow Shapley e dice che le nebulose a spirale sono galassie come la nostra Shapley invece dice che la galassia tra i tempi l'unica galassia nell'universo l'universo era solo la nostra galassia il resto erano nebulose erano corpi di tipo diverso ma non di tipo galattico c'è un altro personaggio che è un po' insospettabile che dice la sua assieme su questo argomento qua Ibanuel Kant colui che scrisse una serie di tratte interessanti e scrisse prima di occuparsi di filosofia scrisse la storia universale della natura e teoria del cielo aveva letto su un articolo aveva circa 3 anni a quel tempo aveva letto un articolo in cui si parlava della visione di Wright e fa una sua serie di considerazioni dice guarda secondo lui questi annelli di stelle altro non sono che dischi rotanti di stelle che ruotano intorno a un centro di gravità che tenderebbe ad attirarle ma loro ruotando per forza centrifuga si mantengono lontani da questo centro che altrimenti le farebbe diventare un grumo unico la gravità tratterrebbe il disco nella sua forma il movimento delle stelle alla forza centrifuga le manterrebbe la forma a disco tutte le nebulose visibili con i telescopi secondo Kant erano dischi rotanti di stelle ecco le nebulose è un termine che addirittura lo stesso Hubble continua a mantenere nebulose nebulose è un termine derivato dal fatto che con i primi telescopi certe cose non si vedevano molto bene non erano niti delle immagini si vedevano qualcosa di non ben definito a differenza dei pianeti che erano ben chiari e quindi ma cos'è cosa vedi vedo qualcosa di nebuloso e da qual termine addirittura adesso oggi consideriamo una serie di tipi diversi di nebulose sappiamo che sono polveri e gas ionizzati solitamente derivanti da stelle morte dall'esplosione di supernove e vengono illuminati con colori veramente notevoli veramente pittoreschi dalle emissioni ionizzate dei gas stessi da queste polveri sono note le nebulose planetarie come vennero definite da Herschel le nebulose emissioni e quella riflessione le nebulose planetarie perché Herschel guardando nel suo telescopio pensava che fossero pianeti in formazione in realtà non sono pianeti in formazione sono detriti derivanti da stelle esplose sono stelle giganti che solitamente sono esplose e che hanno dato origine a queste nebulose comunque tornando alla teoria del cielo di Kant Kant dà questa visione di universo in espansione è un universo evolutivo formato da zone è un universo infinito che ha avuto inizio nel tempo ma che continua comunque ad evolvere all'infinito un universo con punti di densità maggiore nel quale c'è della materia questa materia è viva tra virgolette è viva come la nostra terra adesso pian piano con l'andare del tempo decadrà diventerà materia morta resterà all'interno perché nel frattempo l'universo sarà espanso dall'interno questa materia poi tornerà verso l'esterno e creerà nuovi pianeti nuove stelle nuovi mondi quindi è un ciclo continuo di ricrescita di questo universo la creazione non è quindi mai compiuta vi è un inizio ma non vi sarà mai una fine è una concezione che anche lei ha dei punti di forza un altro che disse la sua nel frattempo fu questo Alfred Russell Wallace giunse a una conclusione alla teoria dell'evoluzione anche lui solo che non la pubblicò e la pubblicò al suo posto invece Darwin collaborò sempre molto con Darwin e fu inoltre fisico e astronomo e in base a queste sue conoscenze scrisse un libro il posto dell'uomo nell'universo è uno studio di tipo non realmente astronomico ma è uno studio che è rivolto ai fattori che resero possibile la vita sulla Terra in accordo con la teoria evoluzionistica ha comunque un parallelismo è un punto di contatto molto stretto con le teorie dello sviluppo dell'universo perché dice perché noi siamo qui in questo momento praticamente siamo qui in questo momento perché le condizioni di tutto l'universo e quindi del sistema solare e quindi della Terra in questo momento sono favorevoli alla nostra vita se ciò non fosse non saremmo qui e qua poi ci sarebbe da fare tutta un'interessante discussione filosofica sul perché siamo qua sul momento in cui siamo arrivati come siamo però esula un po' dalla serata e quindi non ne parliamo ecco Wolos appunto era partì dal suo presupposto da un modello creato da Lord Kelvin Lord Kelvin che era il più grande scienziato inglese del momento autorevole era il presidente della Royal Society persona eclettica fece tantissime cose tra le tante cose che fece Kelvin ci fu il rubinetto quello che noi usiamo tutt'oggi l'ha inventato Kelvin tra le varie cose che fece comunque Kelvin studiò la legge di Newton la legge gravitazionale universale e in base a questa trovò un modello per spiegare per queste nebulose queste galassie queste enormi masse di materia come fanno a stare insieme disse che la gravità al centro di questi gruppi di materia sarebbe stata sufficiente come in effetti è a farle collassare a renderle praticamente un grosso grumo in forme di tutto quanto invece questa materia si mantiene in rotazione attorno a questo centro proprio per forza per il suo movimento per la forza centrifuga quindi la forza centrifuga bilancia la forza di attrazione gravitazionale e si mantiene la forma degli ammassi galattici dice che secondo i suoi calcoli un miliardo di stelle del tipo del nostro sole erano sufficienti anzi erano la cifra giusta per creare una serie di movimenti che avrebbero prodotto una velocità uguale a quella che lui poteva osservare nell'universo intorno a noi se queste stelle fossero state queste masse se questo numero di stelle fosse stato di due ordini di grandezza superiore il moto sarebbe stato eccessivo per cui la forza centrifuga avrebbe sarebbe prevalsa su quella di gravità e tutta la materia sarebbe stata proiettata verso l'esterno e quindi non ci sarebbe stata coerenza vabbè qui c'è una formula ve la risparmio l'unica cosa che mi premeva farvi vedere che nella formula c'è questa costante di gravità che è la costante gravitazionale di newton 6,67 per 10 alla meno 11 newton metro quadro su chilogrammo quadrato 10 alla meno 11 è una forza molto 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 piccola le forze molto questi numeri molto molto piccoli quando fanno finire comunque al denominatore danno risultati molto 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 grandi più delle volte Wallace in base a quello che aveva letto quello che aveva saputo disegna quello che secondo lui era la rappresentazione della via Lattea abbastanza simile a quello che sono le galassie un centro galattico tutta una moltitudine di materia intorno il concetto che lo stesso Kelvin ha vi aveva esplicitato è che questa materia cadendo verso la parte gravitazionale si aggregava tranquillo prego buona serata questa materia che si aggrega che viene attirata dalla gravità scontrandosi genera calore tanto è vero che Kelvin ancora nei primi del novecento diceva che il nostro sole mantiene la sua energia proprio perché riceve materia dall'esterno secondo quello che si sapeva al momento non si conoscevano i neutrini non si conoscevano ancora le reazioni nucleari il decadimento beta ne abbiamo ne è stato parlato già nell'altra lezione precedente era convinto che la materia arrivando sull'esterno cadeva sul sole meteore materia picchiava picchiava sul sole e riforniva nuovo combustibile alla stella che continuava ad ardere è stato smentito dai fatti ci stiamo avvicinando alla fine della serata finora abbiamo visto quindi tutta una serie di fenomeni fisici che rispettano le teorie di Newton Clausius invece comincia a parlare dell'universo in termini di calore in termini di ordine e di disordine molecolare atomico parte dalle considerazioni di un altro scienziato francese di Carnot e sviluppa tutta una sua teoria di entropia e porta all'entropia cioè al disordine al disordine parte dalle reazioni reversibili e irreversibili le reazioni irreversibili sono quelle che vanno da un punto a un altro e possono tornare indietro le reazioni irreversibili sono quelle che una volta avvenute il prodotto della reazione è quello che è e non si può più tornare una reazione irreversibile a livello fisico è che se io butto un uovo per terra l'uovo si rompe e resta rotto non c'è possibilità di riportare l'uovo indietro e di farlo ricomporre la fisica di Newton dice sì si può fare la fisica quello che succede in realtà invece no perché è proprio questa seconda legge della termodinamica che spiega perché ciò non può avvenire l'entropia non è una legge di tipo fisico newtoniano ma è un concetto statistico questa legge statistica è quella che praticamente manda avanti l'universo intero è quello che definisce la freccia del tempo è quello per cui non possiamo tornare a ieri possiamo solo andare avanti è una serie di fenomeni che non hanno reversibilità possiamo vedere questo concetto mi pare di avere un disegno adesso sì eccolo qua immaginate di avere un contenitore con due pigmenti due vernici una e due separate da un setto nel momento in cui io tolgo il setto in mezzo abbiamo tutto il blu da una parte e il il magenta dalla parte opposta il viola dalla parte opposta allora cosa succede che le molecole cominciano a spostarsi le particelle si spostano quindi un po' di questo blu va verso la parte del viola un po' del viola va verso quella del blu man mano che il tempo passa si mescolano sempre di più quindi la probabilità alta è che si mescolino tutte le varie componenti la probabilità bassa è di ritornare ad avere completamente tutto il colore da una parte e tutto il colore separato dall'altra parte statisticamente potrebbe avvenire potrebbe ma è talmente bassa la possibilità che in tutta la vita dell'universo non si verificherà mai ed è il motivo per cui il nostro uovo caduto per terra non tornerà mai indietro e non si ricomporerà sul tavolo anche se l'entropia dell'uovo era di quando era sul tavolo era minore cadendo l'entropia è aumentata è aumentato il disordine che però non è ancora aumentato oltre perché potrebbe andare oltre quindi c'è tutta poi una serie di discorsi di scala che spiegano l'entropia ma magari poi ne parleremo un'altra volta con un po' più di calma perché è abbastanza complicato lo vedremo lo vedremo negli universi proposti nelle teorie più recenti comunque cosa diciamo allora abbiamo detto l'entropia aumenta aumenta il disordine aumenta 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 a un punto tale che a un certo punto dovremmo avere un universo talmente disordinato talmente senza coerenza più che è un universo alla fine morto è termicamente morto ha raggiunto uno stato di massima entropia questo implica una serie di considerazioni allora se l'universo fosse sempre esistito da sempre a questo punto sarebbe nello stato di morte termica se fosse nello stato di morte termica non saremmo qui a raccontarci la storiella dell'universo allora potremmo vietare sì vabbè ma l'universo noi siamo in quel momento in cui l'universo non era ancora siamo nel momento in cui l'universo non era ancora ma se l'universo è sempre esistito come facciamo a dire che noi siamo in quel momento lì l'universo è sempre esistito e deve essere per forza morto se l'universo invece è iniziato allora sì che il ragionamento funzioni l'universo è cominciato in uno stato di perfetto ordine come in uno stato di perfetto ordine è cominciato pian piano sta diventando disordinato noi siamo magari in un punto intermedio tra questo e questo e andando avanti l'universo degraderà ma in questo momento noi siamo siamo nel momento ideale perché possiamo esistere e quindi questo concetto entropico è molto importante per spiegare il perché siamo qui in questo momento se effettivamente questo concetto però è valido per migliorare un po' la questione dire vabbè questi Boltzmann e Zermelo ipotizzano che l'universo è in uno stato generale di equilibrio termico di equilibrio non è morto è in uno stato di equilibrio però ci sono dei punti di fluttuazione per cui sono fluttuazioni occasionali in cui non c'è l'uniformità l'universo in qualche punto ha questa variazione di entropica in aree anche molto grandi come può essere sotto la nostra galassia e quindi siamo in uno stato entropico leggermente più ordinato e può avere origine la struttura della materia così come adesso e possiamo essere noi qui presenti mi fermerei qui a questo punto non so per quanto tempo sono andato avanti per se no passiamo alle geometrie ma le geometrie ve le vorrei far vedere la prossima volta perché poi le geometrie ci introducono poi alla cosmologia più recente e quindi direi che per adesso se avete qualche dubbio qualche domanda se riesco a rispondere volentieri spero che sia stato abbastanza chiaro non lo so perché poi adesso andando avanti comunque diventerà un pochettino più complessa la questione poi io non essendo un fisico a volte mi perdo un po' sulle definizioni più corrette e mi guardo e ride giustamente ha ragione il fatto che l'universo abbia avuto un origine sulla base della termodinamica è una deduzione moderna sulla base delle teorie o era trasformata all'epoca? dunque la allora sulle teorie l'universo abbia avuto un origine era veramente nato alla fine dell'Ottocento? diciamo che no allora non c'era ancora proprio la concezione esatta del Big Bang come l'abbiamo adesso si pensava teniamo conto che siamo nel periodo della macchina a vapore siamo nel periodo dei motori a combustione interna quindi il calore è diventata una cosa molto importante sui calcoli entropici si pensa appunto era stato detto che probabilmente l'universo per poter essere come oggi doveva essere nato in un certo momento in un certo punto però non era stata ancora trovata la radiazione cosmica di fondo non c'erano ancora queste informazioni quindi erano supposizioni era un po' come quando ai tempi dei tolemai ci si diceva la terra è perfettamente sferica e poi la terra non è più sferica perché c'è il purgatorio che esce fuori dalla parte opposta quindi non è più una sfera perfetta sono considerazioni questa volta di tipo scientifico matematico però non provate da un'esperienza fisica diretta quindi sì l'universo per supposizione perché per poter essere esiste sulla base del concetto entropico deve essere iniziato in uno stato ben definito del tempo e dello spazio come perché e quando non si sapeva era questa esatto torna anche con la terra e torna anche quello certamente sì perché poi alla fine la freccia del tempo è legata all'entropia l'entropia è quella che ci fa invecchiare purtroppo alla fine se non ci fosse l'entropia non andrei a fare il pieno della macchina metterei in moto e continuerei ad andare avanti all'infinito le reazioni sarebbero tutte quante irreversibili il rendimento sarebbe come minimo uno e invece sappiamo benissimo che il rendimento di qualunque sistema nella migliore delle ipotesi è un 99% comunque un po' di perdita c'è sempre c'è un aumento c'è un'energia meccanica elettrica che si trasforma in calore il calore è la forma più disordinata di energia e quindi l'entropia aumenta 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 sì volevo chiedere dipende diciamo la concezione meccanicistica dell'universo dovuta all'elaborazione delle teorie di Newton seguenti inizia a rientrare in crisi adesso con questi concetti termodinamici diciamo che cominciano a esserci delle delle constatazioni di fenomeni che avvengono al di fuori della fisica newtoniana la fisica newtoniana va bene finché io lavoro a basse velocità finché lavoro su concetti molto solidi di spostamenti di corpi ma anche di corpi celesti però già ci sono delle incongruenze sull'obbita di mercurio ad esempio che con la fisica newtoniana non riesce a spiegare quindi comincio ad entrare un pochettino in crisi sì è una crisi molto leggera ma anche oggi comunque non è che poi è sbagliata è un caso possiamo dire che la teoria di newton è un caso particolare della relatività ristretta la parte più giovane è degli ascoltatori è tutto chiaro? vorrei chiedere vorrei chiedere prima per quanto riguarda la teoria delle orbite ellitiche sono i pianeti intorno al sole ancora prima di Kepler e di Galileo non ci sarebbe stata Ipazia sì Ipazia aveva parlato infatti dell'orbita ellitica e ha fatto una brutta fine perché ha osato mettere ha contraddetto i poteri forti di allora è vero Ipazia aveva detto anche se teniamo conto che gli antichi greci erano molto più elastici rispetto magari agli scolastici del tempo medievale quando Galileo ha detto eppur si muove ha viurato tutto perché rischiava grosso rischia in quel momento lì quindi prima di di instillare nella mente della collettività un concetto nuovo specialmente a quei tempi lì c'erano da prendere molte precauzioni ma lo stesso Copernico non si era poi discostato molto a parte aver spostato il sole con la terra però poi non si era discostato molto dalle vecchie concezioni però ha messo il seme per una nuova per una nuova pianta da cui è cresciuto poi pian piano una nuova scienza la vera scienza diciamo che se Aristotele fosse stato probabilmente una persona di poco influente sarebbe andata avanti forse la teoria egliocentrica le cose sarebbero cambiate parecchio è andata in questo modo qua e in questo universo in questo tempo le cose sono andate così quando parleremo dei multiversi facciamo magari un piccolo anticipo alcuni suppongono che se i multiversi sono infiniti in una quantità infinita di universi può succedere qualunque cosa e quindi ci possono essere infinite realtà infiniti noi stessi che fanno le stesse cose cose leggermente diverse fino a fare cose completamente diverse però sono concetti così al limite della fantascienza grazie a tutti grazie a tutti